di un asilo di Venafro. Intanto la difesa valuta la richiesta di impiego in altre mansioni. Pedone è investito e ucciso a Termoli, il 52enne alla guida della Yaris che ha travolto l'anziano e il risultato positivo ai test dell'alcol e della droga è in stato di fermo in commissariato. Domani all'ospedale veneziale disernia l'autopsia sul corpo di Salvatore Brancaccio, il 46enne morto in una fabbrica di Pozzilli mentre effettuava lavori di manutenzione su un muletto. Al momento non risultano persone iscritte nel registro degli indagati. Meno furti e rapine, cresce la lotta alla droga. Il bilancio del 2018 è stato tracciato dal comandante dei carabinieri di Campobasso Gaeta. Il commissario alla Sanità Giustini, la Sub Grossi e il governatore Toma sono stati invitati al consiglio monotematico sul futuro dell'ospedale di Agnone, richiesto dalla minoranza. L'obiettivo è capire a che punto sia l'attuazione del piano operativo sulla base del riconoscimento di presidio di area disagiata. Infine lo sport, il calcio si è chiuso a reti inviolate tra le proteste Granata per un gol annullato, la partita Giulia Nova-Olimpia-Agnonese, recupero della prima di ritorno. Intanto il Campobasso fa i conti con la decisione del giudice sportivo. La gara col Francavilla dovrà essere rigiocata per errore tecnico dell'arbitro. Il presidente Circelli annuncia che faremo ricorso. Bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale C'è la cronaca. In apertura compariranno domattina davanti al GIP del Tribunale di Isernia le due maestre sospese dall'insegnamento in seguito alla indagine della squadra mobile del capologo Pentro con cui sono stati scoperti i maltrattamenti subiti da alcuni bambini di una scuola dell'infanzia di Venafro. Intanto la difesa sta valutando la richiesta di impiego in altre mansioni. Sentiamo tutto. Si terranno domani gli interrogatori di garanzia delle due maestre colpite dall'interdizione all'insegnamento venerdì mattina in seguito all'indagine svolta dalla squadra mobile di Isernia su un asilo di Venafro. Il GIP chiede racconto di quanto accadeva in quell'aula monitorata dal 3 dicembre scorso per circa 20 giorni dai poliziotti. Intanto la difesa sta valutando la richiesta di reintegra in servizio delle due docenti ma con altre mansioni. Tutto è subordinato all'esito del procedimento disciplinare, ha detto Gianni Perrotta, legale di una delle due. L'OSR ha annunciato subito dopo il fatto rimbalzato su tutti i media nazionali di aver intentato un accertamento che è in corso. Intanto in questi giorni altri genitori rispetto alle prime due mamme Coraggio che segnalarono in questura i comportamenti strani dei loro figli e le confessioni che avevano raccolto hanno depositato formale denuncia e l'obiettivo è quello di capire se gli atteggiamenti delle maestre siano avvenuti anche in passato. Le famiglie si sono affidate all'avvocato Arturo Messere che si costituirà parte civile nel processo, passaggio che avverrà in seguito a questa fase preliminare. Il procuratore capo della Repubblica di Sernia, Carlo Fucci, ha ribadito in queste ore che l'intento è chiedere subito il giudizio. È risultato positivo ai test alcol e droga il 52enne di Termoli che ieri pomeriggio ha travolto con la propria Iaris un anziano del posto che è morto sul colpo. La magistratura non ha disposto l'autopsia sulla salma dell'anziano. Sono in corso le indagini delle forze dell'ordine. Sentiamo i risvolti di quanto accaduto nel servizio di Giovanni Cannarsa. Si trova in stato di fermo in commissariato a Termoli il 52enne termolese che ieri pomeriggio ha investito e ucciso l'82enne Donato Rubortone che stava attraversando sulle strisce pedonali in via Martiri della Resistenza all'altezza del centro commerciale Lo Scrigno. Si procede con l'accusa di omicidio stradale aggravato. Poco dopo le 17 l'anziano signore che si accompagnava con l'inseparabile bastone stava impegnando la strada quando una Iaris di colore blu lo ha preso in pieno scaraventandolo a 100 metri di distanza. La piccola utilitaria si è poi fermata solamente 500 metri più avanti. Ai passanti la situazione è apparsa subito grave. Un medico di passaggio ha provato ad effettuare un massaggio cardiaco in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118 ma Donato Rubortone è deceduto quasi sul colpo a causa dei gravi traumi riportati nell'impatto con l'autovettura. Sotto shock il 52enne che è stato preso in consegna dai sanitari e trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Santimotio dove il test antidroga e l'alcol test hanno dato entrambi esito positivo. A quel punto il sostituto procuratore Annameo ha disposto il fermo. Sul posto si sono portati i vigili urbani che conducono le indagini di carabinieri. In un primo momento difficile è stato il riconoscimento in quanto l'82enne non aveva addosso documenti. Solo dopo un paio di ore con l'arrivo dei familiari si è appresa l'identità dello sfortunato termolese. Molto conosciuto in città in quanto custode per anni ma in pensione del circolo tennis che si trova all'interno del parco comunale. Dopo aver disposto il fermo del 52enne intorno alle 20 in via Martiri della Resistenza è arrivato anche il medico legale da Foggia che ha eseguito i primi rilievi sul posto ed in seguito ha predisposto la rimezione del corpo dell'82enne che è stato ricomposto all'ubitorio del nosocomio adriatico. Via Martiri della Resistenza un lungo rettilineo forse ancora con scarsa illuminazione. Madonna Rubortone che era appena uscito dal centro commerciale stava regolarmente attraversando sulle strisce pedonali quando è stato investito dalla Iaris che con molta probabilità procedeva ad alta velocità. Sulla strada sono rimaste le sue scarpe ed il bastone spezzato in più parti. Non è la prima volta che una persona viene investita da quelle parti ma purtroppo in quest'ultima circostanza ha perdonato il Rubortone non c'è stato nulla da fare. Per il 52enne invece potrebbe a breve scattare la convalida dell'ordinanza di custodia cautelare e poi il processo corrito direttissimo che si potrebbe tenere nelle prossime ore. E si svolgerà domani all'ospedale di Isernia l'autopsia sul corpo del 46enne che ha perso la vita sul colpo ieri pomeriggio in una fonderia di Pozzilli mentre stava compiendo dei lavori di manutenzione su un muletto. Non risultano al momento persone iscritte nel registro degli indagati. I dettagli da Nicola De Santis. Sarà l'autopsia in programma all'obitorio dell'ospedale veneziale di Isernia domattina. A stabilire l'esatta causa che ha portato alla morte di Salvatore Brancaccio, deceduto ieri pomeriggio nella sua fabbrica metalmeccanica, mentre effettuava lavori di manutenzione su un muletto, carrello elevatore, normalmente utilizzato per movimentare merce voluminosa e pesante. Per la morte del 46enne al momento non risultano persone iscritte nel registro degli indagati. Salvatore Brancaccio, 46 anni, residente a Caivano, in provincia di Napoli, stando ad una prima ricostruzione del tragico evento, stava effettuando una riparazione al mezzo da lavoro, quando, per cause ancora da stabilire, il pesante blocco che sostiene le forche del muletto ha ceduto schiacciando l'operaio. Le indagini, per ricostruire l'esatta dinamica dell'ennesimo infortunio sul lavoro, sono affidate ai carabinieri della compagnia di Venafro. Il 46enne era socio della RP Tecnologie, azienda di Pozzilli che lavora all'alluminio. La tragedia si è consumata davanti agli occhi del figlio ventenne della vittima, presente in fabbrica in quel momento. La richiesta di soccorso è stata immediata, ma quando il personale di Isernia Soccorso è giunto sul posto, ha solo potuto constatare il decesso del 46enne. Necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per liberare il corpo dello sfortunato operaio. Dopo l'intervento del magistrato di turno, Maria Carmela Andricciola, il cadavere è stato trasferito al Veneziale in attesa dell'esame autottico, sgomento tra imprenditori e laboratori del nucleo industriale di Pozzilli, per una morte assurda ed inspiegabile, dettata da una tragica fatalità. Il colonnello Emanuele Gaeta, comandante provinciale dei carabinieri di Campobasso, ha tirato le somme oggi dell'attività svolta negli ultimi tempi. Nel 2018 meno furti e rapine, si inasprisce la lotta alla droga e nel 2019 più pattuglie e controlli. I dettagli da Cristina Nero. È un lavoro difficile, ma il nostro obiettivo è cercare di liberare il più possibile questo territorio da ogni tipo di attività illegale, in particolare per ciò che riguarda il mondo degli stupefacenti e restituirlo alle persone oneste che vi abitano e che per fortuna sono la stragrande maggioranza. È il messaggio del colonnello Emanuele Gaeta, comandante provinciale dei carabinieri di Campobasso, che apre il bilancio delle attività condotte dall'arma sul territorio di Campobasso e dintorni durante il 2018. Sono aumentati i controlli e sono scesi i reati, pattuglie più smart e incesive per la primaria attività di prevenzione ed eventualmente poi anche quella di repressione. Abbiamo aumentato molto il controllo del territorio, che è solo l'inizio però, fermando circa 5.000 persone in più rispetto al 2017, fermando, controllando. Questo ci ha portato anche ad un buon risultato sotto il punto di vista dei furti e delle rapine. Il numero delle persone fermate è aumentato sensibilmente almeno 5.000 in più rispetto al 2017. Per il 2019 il trend sarà addirittura superiore. Più arresti per una percentuale che sfiora il 15%. Poi Gaeta cita le due importanti operazioni antidroga che hanno inferto un duro colpo al monto dello spaccio e della tossicodipendenza. Abbiamo dato forte impulso al contrasto del spaccio di sostanze stupefacenti, sia con l'attività ordinaria, sia con le operazioni che abbiamo sviluppato nel mese di ottobre e novembre, l'operazione Lungomare e l'operazione Pacco Free, che ci ha consentito di dare un segnale anche allo spaccio di droga proveniente dalla Puglia in particolare. L'attività del 2018 per quanto riguarda il sequestro di sostanze, le persone arrestate e denunciate comunque è stata positiva, di circa un 10% rispetto al 2017. Massima attenzione dunque verso chi porta droga, chi la spaccia, chi la consuma, un atteggiamento che per il 2019 potrà soltanto ampliarsi. Ma questo è un inizio di questa nuova attività che stiamo svolgendo in maniera così forte, che è iniziata negli ultimi mesi del 2018 e che continuerà per i prossimi anni, in particolare in questo 2019, che vogliamo che sia fortemente impattante su questo fenomeno che è diventato troppo vasto e non va bene. Quindi bisogna cercare di ridurlo, ridimensionarlo, fermarlo e soprattutto di consentire alle popolazioni, ai ragazzi, ai cittadini di percepire qual è il vero danno e pericolo che queste sostanze comportano. Daremo sfogo ad una presenza più massiccia di carabinieri, ha poi concluso il comandante provinciale non soltanto perché a breve arriveranno nuovi militari, ma anche perché le pattuglie opereranno in maniera più dinamica, veloce, saranno continuamente presenti e mai negli stessi posti perché, ha detto, ritengo che il controllo debba essere il più possibile imprevedibile. I carabinieri forestali di Campobasso, su delega della procura, hanno proceduto al sequestro di un terreno che è posto nell'area cittadina del capoluogo dove insistono alcune cisterne contenenti idrocarburi pesanti da cui nel corso del tempo sono fuoriusciti tanto da provocare l'inquinamento del sito. Le indagini sono partite nel 2015 durante la realizzazione di movimenti di terra per lavori edili ad opera del proprietario del terreno e a quell'epoca vennero danneggiate le cisterne in questione causando la continua fuoriuscita da parte degli idrocarburi pesanti che erano contenuti. Le successive attività investigative hanno consentito di individuare i responsabili dell'inquinamento e conseguentemente di obbligarli alla bonifica del sito, così come previsto dal principio della norma secondo cui chi inquina paga. Ed ora parliamo del viadotto Sente, questo è il tema al centro di un incontro che si è svolto nella sede del comune di Agnone, si è parlato dei tempi per la riapertura. Un anno e mezzo dall'affidamento dei lavori, questa è la previsione secondo il progetto stilato dalla provincia di Isernia. Sentiamo. Tenere aperto il Sente sarebbe stato un atto criminale, lo ha ribadito l'ingegnere Umberto di Cristinzi intervenendo ad Agnone ad una riunione organizzata per discutere dell'interdizione al traffico del viadotto e dei lavori di messa in sicurezza della mastodontica struttura. A Palazzo San Francesco ha la presenza di molti amministratori locali, alcuni dei quali provenienti dal vicino Abruzzo. I tecnici hanno spiegato nel dettaglio quale sia la situazione attuale del ponte e quali le tempistiche previste per la sua riapertura, un anno e mezzo circa dall'affidamento dei lavori. Si interverrà procedendo nell'immediato, appena sarà dato inizio i lavori, a un monitoraggio dell'opera che consenta di effettuare in sicurezza tutte le operazioni di ripristino. Il monitoraggio poi continuerà anche a lavori conclusi, poiché gli interventi non sono interventi di ripristino totale di tutto quanto il viadotto, ma interventi che eliminano solamente le situazioni attuali di pericolo. A fare gli onori di casa il sindaco di Agnone, Lorenzo Marcovecchio, il quale ha illustrato ai presenti la valenza strategica del Sente per tutto il territorio e l'importanza di intervenire celermente sulla struttura. Da intese con la provincia abbiamo capito che siamo a buon punto, se non ad un ottimo punto. Si aspetta solamente di poter appaltare le opere su un progetto oramai esecutivo. E' questo un grosso passo, è un passo importantissimo per riallacciarci ai nostri cugini abruzzesi e quindi riuscire finalmente a ripristinare i rapporti interrotti bruscamente successivamente alla chiusura del viadotto a seguito della tragedia del Ponte Morandi. Il Sente necessita anche di lavori di ordinaria manutenzione, lavori che la provincia di Sernia non può sostenere ed è per questo che il Presidente ha ribadito la necessità di riconsegnare il viadotto all'ANAS. Diciamo che nel momento in cui avremo i soldi, siamo pronti per fare la gara d'appalto e i tempi tecnici sono intorno a un anno, un anno e mezzo dall'affidamento alla ditta che ha vinto la gara d'appalto. Fermo restando eventuali contenziosi perché su questo vi devo dire che oggi abbiamo siglato il verbale di gara per la messa in sicurezza della strada Lex SS 86 Estonia, ci sono state la bellezza di 27 ditte, non l'abbiamo segnato alla prima, l'abbiamo segnato alla seconda però cercando di evitare un contenzioso. Quindi anche su questo possiamo dare la notizia che a breve inizieranno i lavori, fermo restando il tempo che attualmente è inclemente, ma diciamo che appena comincerà la primavera metteremo in sicurezza anche la strada statale alternativa. All'incontro ha partecipato anche il prefetto di Sernia Cinzia Guercio, particolarmente sensibile sin dal suo insediamento alla problematica. Guardi, il progetto è stato presentato dal presidente della provincia e dai suoi tecnici, chiaramente si è in attesa che la provincia entri nella disponibilità degli stanziamenti, dei famosi 2 milioni, ma è un problema puramente tecnico contabile, soltanto questo perché i soldi sono postati, c'è tutto, ma ci sono dei tempi tecnici per l'assegnazione nei capitoli della provincia. Il presidente è già pronto e sarà pronto con il bando di gara, è chiaro che la provincia, ma qualsiasi ente, non può indire una gara se non ha la copertura finanziaria, però la presentazione del progetto 15 giorni prima rispetto al 30 gennaio indica insomma la volontà della provincia di veramente di venire incontro a quella che è una necessità evidente. E restiamo ad Agnone ma per parlare dell'ospedale perché è proprio sul futuro del caracciolo che è incentrata l'assemblea civica monotematica richiesta dai consiglieri d'opposizione. All'appuntamento saranno invitati anche il commissario ad acta, la sanità Giustini, la sub Grossi e il governatore Toma. Cosa ne è stato del riconoscimento per il caracciolo di ospedale di area disagiata? Un interrogativo che agita l'animo di molti agnonesi e che a breve verrà posto ai decisori politici. Se ne faranno portavoce i consiglieri di minoranza del gruppo Nuovo Sogno agnonese i quali hanno chiesto la convocazione urgente di un'assemblea civica monotematica. All'appuntamento sono stati invitati il commissario ad acta, la sanità Angelo Giustini, la sub Ida Grossi, il governatore della regione Donato Toma e il direttore generale dell'ASREM Gennaro Sosto. L'obiettivo è aprire una discussione sullo stato d'attuazione del programma operativo straordinario 2015-2018 con un particolare riferimento alla firma degli accordi di confine relativi al nosocomio agnonese. In città si respira un clima di totale rassegnazione, soprattutto per quanto riguarda il destino del Caracciolo, scrive in una nota Daniele Saia. Delle forti mobilitazioni che nel 2015 portarono all'incontro con l'allora viceministro alla sanità Vito De Filippo e quindi al riconoscimento dell'ospedale Caracciolo quale presidio di zona disagiata non vi è alcuna traccia, tutto tace. Il timore espresso dal gruppo consigliare è che l'ospedale venga riconvertito in semplice poliambulatorio e quindi si torna ad avanzare richieste circa l'attivazione di un vero pronto soccorso di un anestesista H24 e l'utilizzo al meglio delle moderne sale operatorie. A distanza di tre anni però il citato programma operativo per quanto riguarda l'ospedale Caracciolo è stato attuato in minima parte, dicono ancora gli esponenti di minoranza al Comune di Agnone. Vogliamo sapere a chiare lettere la tempistica per la completa attuazione del programma operativo e quale futuro avrà l'ospedale Caracciolo. Ora il sindaco di Agnone dovrà convocare il consiglio in modo che la donanza possa essere tenuta entro 20 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. E torniamo al parlare del caso Drag Test dopo che la proposta di legge è stata avagliata dalla prima commissione regionale. Si registrano in queste ore le dichiarazioni del consigliere Massimiliano Scarabeo, ha detto la proposta deve tornare dove era e poi bordate, non ha risparmiato, bordate Scarabeo ad Andrea Greco dei 5 Stelle. Sentiamo. Continua a far parlare di sé il Drag Test, l'obbligo per i consiglieri e assessori della regione molise di sottoporsi a test antidroga casuali e periodici. Il testo va migliorato, così il presidente della prima commissione Andrea Dilucente sarà emendato in aula, ha aggiunto, la pensa diversamente il proponente. Il consigliere Massimiliano Scarabeo chiede che la proposta di legge torni in commissione. Io in qualche modo ho anche ringraziato i colleghi commissari che mi hanno sottoscritto la proposta legislativa e sottolineo proposta legislativa, quindi non un testo blindato. Però nel sentire anche alcune dichiarazioni che sinceramente mi hanno lasciato titubante perplesso nella valutazione oggettiva e soggettiva, io richiederò che il testo legislativo ritorni in commissione per le giuste e dovute valutazioni. Io credo che quella commissione non abbia lavorato seriamente su un testo nobile, su un testo importante, su un testo che ritengo contribuisca a dare dignità a quella che è l'istituzione regionale perché determinate convocazioni del tipo Camere Penali di Sernia e Campobasso non ci sono state, dell'Ordine dei Medici non ci sono state, del Garante della Pravisa non ci sono state, cioè rispetto a tutta una serie di azioni che potevano e dovevano essere messe in campo dal presidente e dai commissari devo dire mio malgrado non sono state fatte. Un testo nobile lo definisce ma da perfezionare non in aula ma in commissione. È una proposta che viene anche da lontano, viene dalla passata legislatura, lo ritengo un testo che sostanzialmente al 70-80% è un testo valido che sicuramente va migliorato con l'apporto di tutti e per questo che esistono le commissioni. Io non mi sono permesso a norma di statuto, articolo 42,2, di scriverla direttamente in aula. Se avessi voluto l'avrei fatto, avevo 12 firme e me la facevo votare sic et sempliciter. Io ho chiesto la collaborazione dei commissari. Se poi alcuni commissari, non so, qualcuno per incompetenza, altro per motivazioni di carattere personale che non conosco, ha ritenuto opportuno non votarla o votarla però con qualche perplessità, beh allora è giusto pure che io dica apertamente ed esplicitamente quello che penso. È una commissione che non ha lavorato. Bordate, l'esponente della maggioranza, le riserva anche ad Andrea Greco del Movimento 5 Stelle che aveva definito la PDL una legge presa in giro con profili di incostituzionalità. Sentirmi dire alcune cose da qualche consigliere regionale dove inizio legislatura, gli ho dovuto spiegare in aula, a viso aperto, la differenza tra ordine del giorno, tra proposta legislativa, tra interpellanza, mozione. Cioè veramente insomma ritengo che il consiglio regionale debba essere concepito e visto nella giusta e dovuta maniera e non come un circo dove c'è il bullo di turno che cerca di mettersi in evidenza. E a stretto giro è arrivata la replica del presidente della prima commissione consigliare, Andrea Dilucente. Il consigliere Scarabeo che sulla questione del drug test obbligatorio ai consiglieri e agli assessori vuole ignorare le leggi, ha detto Dilucente, non può addossare agli altri le proprie mancanze. Non si è preoccupato di studiare, come direbbe il presidente Toma, abbozzando una proposta di legge per strappare titoli sui giornali. Fa nulla poi se il testo non sta in piedi e quando anche la struttura tecnica ha sollevato perplessità non si è preoccupato di aggiustare il tiro. Da chi siede in consiglio regionale da molti più anni di me mi aspetto precisione, mi aspetto che possa insegnare a noi neofiti ciò che c'è da sapere. Invece qui siamo di fronte all'improvvisazione, al voler ignorare tutte le regole basilari e alla strafottenza di chi crede di poter imbrogliare gli elettori. Quindi parole forti nella replica di Dilucente a Scarabeo. Ed ora cambiamo argomento. L'azienda che gestisce il servizio mensa delle scuole a Termoli ha donato due defibrillatori ad altrettanti istituti scolastici del posto. La consegna è avvenuta in comune alla presenza del sindaco Sbrocca. Due nuovi defibrillatori regalati dalla Cirfood che gestisce le mense scolastiche a Termoli per la scuola media Maria Brigida e per il plesso scolastico di difesa grande. Un omaggio molto gradito in quanto nelle scuole la sicurezza di alunni, personale e professori viene messa sempre al primo posto. Ovviamente è una sicurezza in più che possiamo dare ai nostri alunni. Noi già cerchiamo di fare il nostro meglio. Tenete conto che ci sono anche dei bambini che hanno già bisogno di terapia e salvavita per cui già è attivata nella scuola la possibilità per i bambini che hanno delle gravi difficoltà di salute di essere protetti. Quindi il defibrillatore ovviamente invece è un supporto per tutti. I numeri sono alti come diceva la preside quindi sia a difesa grande che alla Bernacchia Principe di Piemonte e anche alla Brigida. Ecco quindi i numeri certamente sono importanti degli alunni e del personale presente per cui faremo formare i nostri docenti in maniera da poter utilizzare questo strumento. Oltre ai dirigenti scolastici alla consegna hanno partecipato il sindaco di Termoli Angelo Sbrocca, l'assessore alle politiche sociali Maria Chimisso e Bruno Loiacono di Cirfood. Importante per il primo cittadino avere più punti in città dotati di defibrillatori specialmente nelle scuole molte delle quali al momento non hanno la possibilità economica di acquistarli. Siamo ben contenti di ricevere questo regalo quindi io ringrazio la Cirfood e tutta l'amministrazione comunale perché ne sentivamo veramente l'esigenza. Un defibrillatore può salvare una vita umana e quindi più volte noi abbiamo sentito all'interno della scuola questa esigenza. Finalmente è un progetto che si avvera e quindi da parte nostra tutto il ringraziamento e la gioia per questo regalo considerando che abbiamo poi dei plessi anche con un numero importante di alunni. Bene, ora è il momento del meteo. Vediamo che tempo farà nelle prossime ore in Molise. Queste le previsioni per giovedì 24 gennaio. Correnti più miti ma instabili raggiungono la regione determinando ancora mal tempo con deboli precipitazioni inizialmente nevose al mattino. Queste invece le temperature. 0-0 nel recupero della gara Giulianova-Olimpia-Agnonese. Ne parleremo tra pochissimo con la pagina sportiva quindi restate con noi. Ben ritrovati, eccoci di nuovo insieme per parlare di calcio di serie D. Oggi in campo l'Olimpia-Agnonese a Giulianova per il recupero della partita che non venne disputata per neve il 6 gennaio scorso, la prima di ritorno. Una partita finita a reti inviolate 0-0 con proteste però arrivate soprattutto nel finale di gara quando c'era stato il gol dell'Olimpia-Agnonese, anzi un autogol del Giulianova che però è stato annullato per presunto fuorigioco dal direttore di gara. Proteste Granata che si sono accostate a un commento positivo della squadra che oggi ha disputato una buona partita. Andiamo a vedere allora la classifica, ricordiamo che l'Agnone deve recuperare un'altra partita ancora che è quella col Cesena, nel frattempo ha un punto in più, 19, la vediamo nella seconda parte della classifica e la prossima settimana, domenica, anzi scusate, affronterà la San Maurese e poi ci sarà il Trento e il recupero col Cesena. Franca Villa Campobasso si dovrà rigiocare, lo ha deciso il giudice sportivo accogliendo così il ricorso della società abruzzese. La sentenza è arrivata dopo che il direttore di gara Mario Perri della sezione di Roma 1 ha ammesso l'errore tecnico riguardante lo scambio di persone al momento dell'espulsione di Danny Nazari nello specifico il provvedimento disciplinare era indirizzato invece ad Alessandro Di Renzo sul campo il Campobasso si era imposto per 2-1, ora la gara come detto dovrà essere ripetuta e sempre il giudice sportivo ha squalificato per due turni il tecnico del lupo Massimo Bagatti e il vice Tonino Minadeo dopo le espulsioni di domenica scorsa a Forlì. In merito, possiamo staccare da queste immagini, abbiamo ascoltato il presidente del Campobasso Nicola Circelli che ai nostri microfoni ha annunciato il ricorso avverso questa decisione. Sentiamolo. C'è un po' d'amarezza su questa sentenza che abbiamo appreso oggi pomeriggio, io posso dire la mia che per quanto riguarda la società del Francavilla o meglio per noi se capitava a noi noi non l'avremmo mai fatto come società perché sul campo il risultato è stato palese, ora se dobbiamo parlare dei particolari lasciamolo fare agli avvocati o alla giustizia sportiva, una cosa è sicura e possiamo rassicurare i tifosi che cercheremo dove c'è la possibilità faremo appello su questo tipo di sentenza perché ci sono delle incongruenze. Dalla tribuna vi eravate accorti di questo errore tecnico? No, io personalmente no, però per non scendere nei particolari o meglio per scenderci nei particolari non credo che il cambio di persona in un'espulsione possa cambiare il risultato, comunque si è rimasti in dieci, comunque non è un'azione che di conseguenza è stato fatto il gol, quindi credo che ci siano dei presupposti per poter provare perlomeno a fare appello. Con un grandissimo gol Lorenzo Ranelli ha sbloccato la gara di Forlì, poi vinta dal campo basso grazie al gol di Alessandro, il centrocampista ha raccontato la rete e ha invitato i compagni a continuare a dare il massimo. Allora Mirko Giacobbe mi ha messo la palla un po' all'indietro, era l'unico modo per girarmi, è stato un gesto istintivo, è andata bene, sono contento di aver fatto gol perché meritiamo questi risultati che stiamo ottenendo, stiamo lavorando tanto e va bene così. Intanto è cercare di fare più punti possibili e quindi di allontanare la zona play-out e poi è normale, arrivati a un certo punto si tirano le somme, è normale che ci auguriamo di arrivare nei play-off. Elisernia lavora in vista della partita di domenica a Casalinga con la Savignanese, un altro scontro salvezza, il tecnico Massimo Silva si complimenta con i nuovi e Bacchetta invece il difensore Antonio Barretta che nell'ultima gara ha rimediato l'ennesima espulsione, la seconda stagionale. C'è ricascato le parole dell'esperto trainer che ora pensa come sostituirlo, intanto saranno due turni di squalifica per Barretta, il 30 poi ci sarà un'altra gara casalinga per l'Isernia e il recupero col Forlì. E' tutto per questa edizione, vi ricordo sempre che potete collegarvi al nostro sito internet teleregionemolise.it per rivedere i telegiornali, per scaricare i servizi anche tramite la nostra pagina Facebook. Grazie per essere stati con noi e arrivederci. Grazie per essere stati con noi.